L'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel nostro paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e di conseguenza sul mercato del lavoro. Nella media dei primi tre trimestri del 2020, gli occupati diminuiscono di 470.000 unità, tornando poco sopra i livelli del 2016. Contestualmente si registra un calo di 304.000 disoccupati e un deciso aumento di inattivi tra i 15 e i 64 anni. È la fotografia scattata dal Ministero del Lavoro, ISTA, TIMSS, INAIL e ANPAL nel rapporto sul mercato del lavoro 2020. A ciò corrispondono diminuzioni del tasso di disoccupazione e di occupazione e un aumento del tasso di inattività. Il forte calo del numero di occupati e disoccupati è dovuto soprattutto alla situazione creatasi nel secondo trimestre, quando le eccezionali misure restrittive di contrasto alla pandemia hanno inciso negativamente sia sull'avvio di nuovi lavori e sulla prosecuzione di quelli in scadenza, sia sulla ricerca attiva del lavoro. L'allentamento di tali misure nel terzo trimestre ha portato a una riattivazione di una quota di non occupati con l'aumento delle persone in cerca di lavoro, pur in presenza di un calo occupazionale ancora intenso. A subire maggiormente la crisi sono state le categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro. La caduta del tasso di occupazione è stata quasi il doppio tra le donne rispetto agli uomini e più forte per gli under 35 e per gli stranieri, per i quali il valore dell'indicatore scende al di sotto di quello degli italiani.